una verde e il semafore rosso occhio a questo oi, 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 oi oi, 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 o Adesso l'ho visto. Che è successo? Facciamo la manina. Retti. Retti, retti. Qui c'è il casino. Qui c'è il casino. Qui c'è il casino. e non sembra neanche di cibo no 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 siamo solo noi che i bastardi che vanno al duomo noi i veri bastardi e di maurizio non neanche la rotonda di cicognola fiega la bicicletta a rotolare grazie 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 salve tutto registrato comunque siamo superiori a queste cose è bello da la diretta dai rocca dai su che rimane memorizzata eh grande questa si che non è il quarto siamo qua non è il quarto non è il quarto ci che è il quarto ci era nel quarto è andato Sì, sì, sì. Ma quello che io a pizza volevo venire a mangiare a parte del giro quella sera... L'hanno recuperata questa via, perché per un certo periodo era stata lasciata un po'... Adesso il signor è arrivato qui. Ma io sono già a casa, hai fatto tirato alle 11... Hai dovuto mandare via... Una per fortuna che non erbe, oggi aveva impegni. Sì. Sono i becari. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.